Cattaneo è una realtà estremamente specializzata che si è evoluta nel tempo attraverso l'innovazione tecnologica. Davide ci puoi raccontare meglio la vostra visione? Sì, siamo un'azienda nata nel 1950 e si occupa di installazione, progettazione e manutenzione di impiantistica industriale. Lavoriamo per importanti clienti del settore chimico, farmaceutico e alimentare. Ci siamo resi conto negli ultimi anni che quelle che sono procedure e passaggi cartacei non sono più adatti a un volume di business in crescita e richieste di clienti che sono sempre più strutturati. Ecco, è nata così l'esigenza di intraprendere un percorso finalizzato ad avere un approccio più tecnologico e più digitale. Come vi siete mossi per accogliere questo cambiamento e come siete riusciti a trasformarlo in un'opportunità? Sia nei confronti dei nostri fornitori ma soprattutto nei confronti dei nostri clienti abbiamo monitoraggi, KPI, sla stringenti, reportistica avanzata da consegnare praticamente in real time. Ecco, partendo da questi aspetti ne abbiamo studiato quelle che sono le criticità e abbiamo iniziato a porci delle domande, come ad esempio come possiamo efficientare il processo legato alla manutenzione, come possiamo tenere traccia di tutti gli interventi che vengono fatti in molti sito e soprattutto come possiamo garantire trasparenza e affidabilità nei confronti dei nostri clienti. Ecco, da qui è nata in collaborazione con Var Group un progetto, il progetto Paperless. Un percorso analitico che vi ha portato a valutare l'adozione di una soluzione di Enterprise Asset Management. Perché avete scelto Maximo? Ma soprattutto quali sono le novità che ha portato nella vostra organizzazione? Perché Maximo è una soluzione IBM di Enterprise Asset Management e ci ha fornito le risposte alle domande che ci siamo posti. Ad oggi abbiamo questo strumento avanzato che ci permette di gestire in maniera digitale tutto quello che è il mondo legato agli asset. Quindi possiamo conoscere la scadenza degli interventi, la tipologia degli interventi, la priorità con quali mezzi, con quali strumenti, con quali risorse vengono fatti gli interventi. Ogni asset che è presente nei nostri contratti di Global Service viene anche censito e caricato in Maximo e Maximo ci restituisce quello che è un quadro completo, tracciato e ottimizzato di tutto quello che è il nostro operato. Per farti un esempio, tra i nostri importanti clienti abbiamo censito circa 8.000 asset, li abbiamo dotati di QR code e sia l'utente finale, quindi il cliente stesso, che cattano gli impianti, ha la possibilità di scansionarlo e visualizzare tutti quelli che sono stati gli interventi, la documentazione legata agli interventi e anche la documentazione stessa dell'impianto. L'adozione di una soluzione innovativa è una sfida che si vince con il giusto partner tecnologico. Perché avete scelto Var Group? Var Group ci ha supportato durante tutta quella che è stata la fase progettuale e digitale del progetto. Quindi ci ha aiutato sia negli aspetti più semplici che negli aspetti più avanzati e siamo riusciti a raggiungere con innovazione e competenza quello che era il nostro obiettivo, che poi alla fine si traduce con l'obiettivo dei nostri clienti. Grazie a Var Group e anche grazie a quella che è la solità di un brand come IBM, ci hanno permesso di riuscire a vincere quelle che sono le sfide del presente e speriamo anche quelle che saranno le sfide del prossimo futuro. Grazie. Grazie a te.